Permettevi di correre correttamente, li abbiamo diviso in quattro ondate, le ondate e le gabbie le vedete qui nella zona di partenza, trovate il numero elettorale. Allora ragazzi andiamo perché stanno veramente scalpitando, siamo a 4 minuti, 4 minuti per il start, 4 minuti per il start. First wave, first wave, the top runner, after this we have, in 15 minutes a second wave, come on guys, come on guys, we are ready for the new edition of Corsa Bella Bora 2020, we are ready, runner, adesso vogliamo voi, adesso vogliamo voi. E appena facciamo partire i top runner, abbiamo 5 minuti per far sentire il cuore e la passione di tutti gli altri concorrenti. Voglio vedere dietro, con il tuo suono e la tua passione, voglio vedere 800 braccia alzate, ok? E allora li facciamo avanzare. Ragazzi, please come here, hurry up, hurry up! Guardi, come here, hurry up! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti.